Benven che è il corso di scienze infermieristiche nel centro storico di Sernia, ma occorre fare di più. È necessario creare un polo universitario delle professioni sanitarie, attivando altre specializzazioni. È importante per la nostra città che vengano rispettati gli accordi siglati in passato, che tra l'altro prevedevano anche l'attivazione della guardia medica e dello sportello per le prenotazioni delle visite mediche nella sede di via Mazzini. Questo in sintesi l'appello del segretario cittadino del partito democratico Maria Teresa d'Achille, rivolto alla regione, al comune e alla ASREM, affinché tutti gli impegni vengano mantenuti. La sede nuova c'è, la sede di via Mazzini, grazie all'accordo che è stato stipulato già nell'aprile 2018. Ci sono ancora dei problemi tecnici, però il corso di laurea qui si è trasferito e funziona. Ma questo non basta. Noi abbiamo previsto una programmazione che riguardasse nuovi corsi di laurea, sempre delle professioni sanitarie, e il potenziamento dell'attuale corso di infermieristica con altri studenti, perché la sede di Sernia è molto ampita nel centro-sud e fra le più richieste. Per noi è fondamentale avere questa presenza di eccellenza universitaria nella città di Sernia, anche perché è l'unica al momento, che ha circa 310 iscritti. Quindi non capiamo perché la regione Molise, quindi in particolare anche l'assessore alla formazione che si è, ha fatto delle dichiarazioni precise, degli impegni su questo argomento, e il comune di Sernia non sollecitino le istituzioni, a partire da essi, per potenziare questo polo. Polo delle professioni sanitarie a parte, per la d'Achille sarebbe opportuno riportare anche altri corsi di laurea in città. Sarebbe giusto riportare qui beni culturali, perché questo corso di laurea era stato chiesto dalle amministrazioni precedenti centrosinistri è ottenuto e fu tolto, scippato alla città di Sernia, alla sede di Sernia, e attualmente sta a Campobasso. Quindi sicuramente questo, ma sicuramente anche gli attuali corsi che sono a pesca, a partire da informatica, che tiene la stessa biologia, potrebbero avere delle sedi nella città di Sernia, centro storico e nella città di Sernia, per gli stessi corsi di laurea o anche altre specializzazioni e master. Questo è dovuto ed è urgente per parlare di Sernia come città universitaria.